Tra qualche anno, come tutti sanno, ci sarà l'Expo 2015 a Milano. Io credo che il nostro quartiere, appunto per la sua complessità e completezza, sarà uno dei quartieri più importanti per l'accoglienza dei visitatori che verranno a visitare l'Expo, ma soprattutto la città, perché penso che tutti i visitatori di Expo vorranno vedere Milano e la città. Il nostro quartiere è uno dei più completi, è uno dei quartieri che può offrire, appunto come si diceva, da una visita ai negozi di design, da una visita alle gallerie d'arte, da una cena o una piccola colazione nei vari ristoranti e bar della zona, da un colloquio con amici che si incontrano per la strada. Io ritengo che il nostro quartiere sarà uno dei più attraenti e interessanti per il turista, soprattutto di Expo, che ci attendiamo anche molto numerosi.